Roma in diretta, cari telespettatori, buongiorno, benvenuti, un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione, saremo in vostra compagnia fino a qualche minuto prima delle 2, poi a partire dalle 14, quest'oggi vi ricordo c'è Foro Romano, ospiti i presidenti dei municipi pronti a rispondere a tutte le vostre risposte, quindi lo studio è già pronto per ospitare il parterre con Andrea Bozzi più tardi, poi a seguire dopo Foro Romano alle 15.30 vi ricordo torna Francesca della Giovampaola con Roma città aperta fino alle 16.30, dunque di fatto inizia ora una lunga diretta in compagnia di Roma 1 se vorrete, una lunga diretta durante la quale cercheremo di raccontarvi la nostra città, dare spazio a tutte le vostre segnalazioni e ospitare anche dibattiti. Prima di iniziare come facciamo ogni giorno, diamo velocemente un'occhiata ai quotidiani online, vediamo quali sono sui principali le notizie che tengono banco questa mattina, bisogna dire che purtroppo c'è una notizia davvero brutta, arriva da Viterbo, dalla zona del Viterbese, botte e insulti agli alunni della materna, qui siamo sul sito di Repubblica, Repubblica Roma, che apre proprio con questa notizia, arrestata una maestra incastrata dalle telecamere, vittime, i bambini di tre anni, della scuola di Monterosi nel Viterbese. L'accusa è di maltrattamenti aggravati, naturalmente adesso saranno in corso le indagini, però insomma ci sono già delle testimonianze che arrivano direttamente dalle telecamere ed è una notizia davvero inquietante. Allora, di taglio più basso invece c'è una buona notizia per Roma, Napolitano firma il Salva Roma, 90 giorni per il piano, via libera al decreto che evita il default della città, sapete che siamo stati nei giorni scorsi tutti in qualche modo con il fiato sospeso. Di taglio più basso invece la notizia di cronaca, turisti lasciano sul taxi la borsa con 14 mila euro, ritrovata meno male, insomma fateci dire così almeno diamo una buona immagine della nostra città, sfatiamo questo mito a volte che ci dipinge come probabilmente realmente non siamo. Quindi facciamo una bella figura all'estero questa volta. Andiamo sul sito del Corriere della Sera, anche qui l'apertura è dedicata a questa bruttissima storia, Picchi e Bimbi è arrestata una maestra nel Viterbese e come vedete di spalla però la notizia della Capitale che vara i processi a numero chiuso, ci racconta Giovanni Bianconi in questo articolo, non più di 12 mila l'anno, scelta della Procura per mancanza di personale. Ancora una volta stiamo a fare i conti con la mancanza di personale, di investimenti e di fondi, ogni 12 mesi vengono accantonati e messi in attesa tra i 6 e gli 8 mila, pensate, procedimenti decise le priorità. E poi di appoggio a questo la notizia dello sciopero degli avvocati che dicono riforme errate. Tra le altre notizie di cui il Corriere si occupa in apertura ancora la firma di Napolitano a Salvaroma, ma anche la questione Marino-Caltagirone, fumata nera sui cambi al vertice dell'Ama, se ne sta parlando molto in questi giorni appunto dei vertici di questa importante municipalizzata. E poi WT Weroncalli, Santi, boom di prenotazioni negli hotel di Roma. Questa è la primavera diciamo così che ci attende. Siamo alla vigilia oggi di una importante giornata che è la festa dell'8 marzo, l'occasione per celebrare le donne, l'occasione per ricordare quello che accade tanti anni fa l'8 marzo, ma fatemi dire anche, io credo oggi più che mai, l'occasione per riflettere sul senso di questa festa che ovviamente non dovrebbe, non deve essere soltanto una festa commerciale, ma insomma cerchiamo di dare un significato in un momento particolare qual è quello che le donne stanno vivendo. Ne parliamo con due ospiti che voglio subito presentarvi, naturalmente donne, per forza, vi presento Anna Parisi Presicce che è la responsabile del coordinamento donne di Amnesty International, buongiorno, benvenuta, adesso ci racconterà di una interessante campagna che Amnesty International sta organizzando proprio qui a Roma e parte da qui e vedremo di cosa si tratta. Diamo il benvenuto anche a Marta Bonafoni, buongiorno consigliera regionale, la regione Lazio Bonafoni ha approvato da pochi giorni, una tormentata è stata l'approvazione, ma alla fine è arrivata una legge regionale contro la violenza sulle donne. Sì, iniziamo veramente dalla concretezza, un 8 marzo fuori di retorica, consegniamo, è nata 24 ore fa la legge, per cui siamo freschi di fatiche ma anche di una grande soddisfazione, perché per la prima volta questa regione si dota di una legge che intende porre il tema della violenza contro le donne in tutte le politiche, non è soltanto sicurezza e repressione, non è soltanto il contrasto e l'intervento nel momento in cui la violenza si compie, ma è soprattutto prevenzione, cultura, una corretta relazione fra gli uomini e le donne, l'affettività nelle scuole, gli spettacoli che si mettono al servizio di messaggi positivi da questo punto di vista, quindi devo dire che quando abbiamo iniziato l'iter di questa legge, ormai quasi sei mesi fa, perché è stata una legge partecipata, tantissime associazioni donne, abbiamo ascoltato veramente l'universo mondo, non ci aspettavamo, non ci eravamo dati una data, ci eravamo detti ci prendiamo tutto il tempo necessario per fare una buona legge e in effetti ci siamo arrivati alle porte dell'8 marzo e questa cosa credo abbia un significato particolare e in un 8 marzo io mi rendo conto che è una giornata da affrontare col sorriso, ma è anche l'occasione per dare le cifre e le cifre di oggi della Casa delle Donne Maltrattate di Bologna ci racconta che nel 2013 le donne uccise dai loro uomini sono state 134, quasi 10 di più dell'anno precedente in cui già ci sembrava che questa tragedia fosse enorme e quindi di fronte a questo fenomeno la regione prima del primo compleanno, perché è meno di un anno che siamo insediati, consegna alle cittadine e ai cittadini, alle donne e agli uomini di questo territorio una legge. Questa legge ne parliamo, tra poco cerchiamo di entrare un po' nello specifico, cerchiamo di capire, perché Marta Bonafone ha detto tante cose importanti, cambiare anche la mentalità, cerchiamo di capire come una legge può lavorare per contribuire a creare un clima più favorevole al mondo femminile. E a proposito di concretezza direi che assolutamente è concreta la campagna di Amnesty, che arriva proprio con forza su questo tema. Sì, diciamo che la campagna di Amnesty è al suo secondo step, l'anno scorso in occasione delle nuove elezioni Amnesty ha lanciato un'agenda per l'Italia in 10 punti, individuando appunto 10 punti su cui il nuovo Parlamento avrebbe dovuto lavorare, campagna peraltro a cui hanno aderito allora 400 candidati e poi di questi 400, 117 sono diventati senatori e deputati. Quindi il nuovo Parlamento è stato subito coinvolto in questo lancio di questa agenda per l'Italia. E il secondo punto di questa agenda riguarda proprio le donne, cioè il femminicidio che è la punta dell'iceberg dell'enorme problema della violenza che anche in Italia ormai è raggiunto livelli, ormai è raggiunto, diciamo di cui ormai si sa. Ecco, infatti, perché poi purtroppo è difficile capire, ma di cui da una parte dobbiamo dire per fortuna si parla un po' di più, quindi questo fenomeno sta emergendo in tutta la sua drammaticità, non solo perché purtroppo accade, ma perché se ne parla e allora questo è il lato buono forse, no? Cioè si cerca di tirar fuori questa realtà. Sì, sì, diciamo poi su questo facciamo un approfondimento specifico. Magari. Diciamo il punto 2 dell'agenda per l'Italia appunto chiede al Parlamento, chiedeva, e adesso è stato rilanciato, chiede al Parlamento alcune cose specifiche. Il Parlamento in qualche modo ha risposto quest'estate, è abbastanza conosciuto, è stata fatta una legge, anzi un decreto legge inizialmente sulla violenza alle donne che focalizzava soprattutto alcuni aspetti, ma soprattutto qualche mese prima era stata ratificata a giugno la Convenzione di Istanbul, che è uno strumento concreto del Consiglio d'Europa, un organo diciamo importante in sede europea che si occupa proprio di diritti umani e che ha fissato un panorama completo di misure che vanno dal riconoscimento della violenza, dalla definizione in tutte le sue forme, comprese le mutilazioni genitali, comprese insomma una serie di fenomeni che apparentemente sono lontani da noi, ma che invece iniziano ad essere presenti, ma soprattutto si occupa della violenza domestica, che è la violenza appunto che riguarda le relazioni affettive, cioè all'interno della famiglia, all'interno dei partner o ex partner, perché è un fenomeno dello stalking, quindi degli atti persecutori, di cui spesso le donne sono vittime una volta che la relazione è finita. Ora mi è capitato recentemente di partecipare, due giorni fa, di partecipare a un altro dibattito proprio incentrato sullo stalking e giustamente qualcuno, diciamo, un'associazione maschile diceva che dello stalking sono vittime anche gli uomini, questo è vero, purtroppo c'è da dire però che statisticamente le donne sono vittime di questi comportamenti, di questo reato in misura molto molto maggiore e poi non è detto che occuparsi della violenza domestica significa occuparsi solo delle donne, anzi, uno dei punti che appunto prevede la convenzione di Istanbul è il coinvolgimento forte anche degli uomini, sia nell'aspetto preventivo, quindi diciamo le campagne di informazione devono riguardare anche loro. Anzi, direi che principalmente sono rivolte a loro, no? Esattamente. Perché sono loro che devono essere sensibilizzati insieme naturalmente alle donne, che devono trovare il coraggio di tirar fuori queste loro storie, perché come ricordava giustamente Anna Parisi Presicce il problema è che molte di queste violenze si consumano nelle mura domestiche e allora diventa ancora più difficile tirarle fuori, un conto è se veniamo aggredite da un estraneo, un conto è se veniamo aggredite da un familiare, marito, ex compagno, che sia, no? Se pensiamo che fino a pochi anni fa l'idea della violenza all'interno dei coniugi era considerata un fatto privato, no? Certo. Di cui lo Stato si doveva in qualche modo disinteressare. Questo a livello, diciamo, e invece per fortuna sia a livello internazionale e più recentemente anche a livello nazionale è chiaro che la violenza è una violazione di un diritto umano ed è la violazione... Ecco perché anche Amnesty se ne occupa, perché Amnesty è ovviamente votata... L'associazione per antonomasia. ...per eccellenza della tutela dei diritti umani. Vorrei farvi vedere questo spot perché Amnesty sta promuovendo non soltanto questa campagna di informazione ma anche chiede un sostegno concreto, questo è molto importante. Vi voglio far vedere questo spot che riassume in pochissimi secondi quello che ci stavamo dicendo qui in studio, cioè come sensibilizzare anche le donne a tirarlo fuori, queste storie che purtroppo le vedono troppo spesso in maniera così importante quando sentiamo questi numeri, le vede oggetto di violenze davvero inaudite, molte delle quali purtroppo portano addirittura alla morte. Allora vi faccio vedere questo spot, poi lo commentiamo con le nostre ospiti, l'abbiamo preso dal sito di Amnesty, guardate. Per fermare la violenza contro le donne bisogna fermare gli aggressori, bisogna trovare il coraggio di denunciarli, bisogna avere la certezza che una denuncia li fermi, invece di spingerli a ricominciare. Invia un sms al 45599 o chiama da rete fissa e aiuterai Amnesty International a fermare la violenza contro le donne. 45599. Diciamo basta alla violenza contro le donne. Beh, credo che più esplicito di questa donna piena di lividi, che proprio pian piano in qualche modo guarisce, no? Esatto. Quando trova la forza di tirar fuori la storia, beh, meglio di questo non c'è nulla, no? Per raccontare la strada. Infatti bisogna assolutamente appunto trovare la forza. È chiaro che denunciare l'uomo che si è amato e che magari si continua ad amare è difficilissimo. Magari anche il padre dei propri figli. Diciamo, infatti è statisticamente rilevato che le maggiori denunce arrivano quando la violenza coinvolge anche i bambini. le donne devono assolutamente trovare il coraggio e anche la solidarietà sociale di denunciare la violenza subita dal partner perché è diffusissima. Diciamo, uno dei problemi che Amnesty evidenzia è l'assenza di, e non solo Amnesty, è l'assenza di rilevazioni ufficiali. Però, appunto, per esempio il centro di Bologna... Nel senso anche del lavoro che è stato fatto a livello della legge regionale, però lei giustamente ricordava anche i consultori, i vari punti di riferimento, i luoghi di ascolto. Però è necessario avere un monitoraggio nazionale, un monitoraggio anche disgregato per aree, in modo di cercare di capire veramente il fenomeno, diciamo, nella puntualità. L'unica indagine ufficiale che c'è stata finora è quella dell'Istat del 2006, che dice che in pratica un terzo delle donne in Italia, un terzo, cioè diciamo in questo studio una di noi tre, ha subito nell'arco della propria vita, il campione era tra i 16 e i 70 anni, una forma di violenza che non necessariamente deve essere la violenza sessuale, è anche la violenza fisica e anche la violenza psicologica, che riguarda una metà delle persone intervistate. La violenza psicologica che significa, appunto, coercizione della libertà, controllo diretto, diciamo diminuzione della libertà economica, eccetera, cioè sono tantissimi fenomeni. Quindi, insomma, la riflessione è importante. La donna si sta evolvendo, sta ormai da anni cercando di assumere un ruolo importante nella nostra società. Marta Bonafoni, che fa politica, ne è una testimonianza, così anche come Anna Farisi-Presicce, però bisogna fare molto ancora, quindi per cambiare questa mentalità. E, Bonafoni, ragionavamo di come una legge, quali sono i contenuti di questa legge e come cerca di lavorare proprio su questo? Anna parlava di solidarietà sociale. Noi abbiamo messo in campo una norma che manda un messaggio di solidarietà istituzionale. Sembra una banalità dirlo, ma le istituzioni che riescono effettivamente ad affiancare il percorso dalla prevenzione all'uscita dalla violenza non sono state scontate in questo Paese. Io ricordo che, accompagnata al grande dibattito intorno alla Convenzione di Istanbul, che peraltro è al primo rigo della nostra legge, quindi la trovate a pagina 1 perché ha il senso di aver normato in maniera innovativa il tema, anche a livello regionale. Una delle denunce più forti che sono arrivate nei confronti della normazione e delle politiche del nostro Paese è arrivata dalla signora Rashida Manjou, che era la special rapporter delle Nazioni Unite, la quale ha detto che in Italia i femminicidi sono da considerarsi dei crimini di Stato, in quanto la mancata legislazione delle politiche nazionali, ma a cascata delle politiche anche degli enti locali, determina il fatto che di questo fenomeno ancora non siamo venuti a capo in una soluzione. C'è una sorta di pubblicità indiretta dello Stato, delle istituzioni, che non facendo, essendo assenti di fatto... Esattamente, l'assenza più clamorosa è quella delle risorse, nel senso che poi in tutto questo percorso, anche molto bello, che ha accompagnato la legge di confronto come forse solo le donne sanno fare schietto, vigoroso, approfondito, eccetera. La prima cosa che le associazioni, gli sportelli centrici dicevano, guardate è inutile che facciamo filosofia, perché poi ci dovete dire quante risorse mettete su questa legge. Tant'è che io avevo anche ipotizzato, naturalmente in una creatività legislativa che poi non è stata possibile, di metterla all'articolo 1, la norma finanziaria, che invece solitamente è quella in cui da la legge. Dopodiché è effettivamente la prima cosa che adesso ci chiedono e con molto orgoglio voglio dire che noi abbiamo messo a disposizione del tema del contrasto e della prevenzione della violenza una cifra che prima d'ora in questa regione non era mai stata stanziata, un milione di euro l'anno che si aggiungono alle cifre che viaggiano sui vari assessorati che a questa legge si riferiscono, che sono quello della scuola, lo dicevo, della cultura, della formazione, su cui c'è moltissimo da fare rispetto al percorso di uscita dalla violenza, persino l'assessorato all'urbanistica, perché come sono fatte le nostre città non è questione indifferente rispetto al grande tema della sicurezza e della socialità che riusciamo a costruire. Esattamente, l'illuminazione ma anche il teatro che apre, si è fatto un gracchierare di braccialetti, di telecamere, non serve quello, serve che le nostre città siano a misura di relazioni distese, corrette, finalmente pacificate fra di loro, uomini e donne innanzitutto, perché poi è la relazione cuore in qualche maniera. Da questo punto di vista noi mettiamo a disposizione un fondo che quindi si emancipa dal bilancio che è in ogni caso ogni anno per le associazioni una specie di tribolazione, quanti soldi metteranno, dove li metteranno, eccetera, per programmare, la programmazione è un elemento fondamentale per queste associazioni. Noi per la prima volta diciamo loro, non sarà di anno in anno, noi mettiamo un milione di euro per tre anni, naturalmente poi da rinnovare alla scadenza del terzo anno, poggiato su un piano triennale, quindi finalmente vi mettiamo in grado di respirare, di avere ossigeno, perché come fai tu a dare risposte se a tua volta ti domandi come paghi le tue operatrici, eccetera, eccetera. Questo è un capitolo, quello della penuria delle risorse o peggio del andarle a cercare e inventarsele, è un capitolo chiuso. La Regione Lazio da oggi dice i soldi ci sono, non è vero che le risorse per i diritti non ci sono e dico di più, io ho iniziato la mattinata di questo 8 marzo così felicemente concreto in Campidoglio insieme all'assessorale Pari Opportunità Alessandra Cattoi, dove Intervita, che è una Ollus milanese, ha presentato un rapporto eccezionale e matematico. Ogni anno il costo della violenza contro le donne a tutti noi, le tasche dei cittadini, è pari a 17 miliardi di euro. Questa è la spesa che i cittadini italiani esborsano a causa dei costi sociali, sanitari, giudiziari, per non parlare del costo umano che hanno le violenze, cioè la capacità che ha la donna poi di ricominciare una vita. Quindi non solo le risorse ci sono, ma ne risparmiamo se riusciamo a prevenire, con progetti nelle scuole, che saranno un elemento fondamentale, con una corretta formazione degli operatori dentro gli ospedali, ancor di più nei commissariati. Una delle prime porte della denuncia o mancata denuncia è quella. Vi faccio due esempi e poi cedo la parola. Si va in un ospedale, da qualche settimana nel Lazio c'è il codice rosa. Il codice rosa si affianca agli altri codici che voi vedete sulle... Esattamente. Che vuol dire il codice rosa? Che la donna che viene intercettata, compresa con personale che deve saper riconoscere i segni della violenza, come donna vittima di violenza di genere, ad esempio non viene fatta attendere a una corsia preferenziale. Quell'attesa tante volte per le donne significa torno a casa, mi vergogno. Soprattutto se è accompagnata dal proprio uomo. Esattamente. Darle una corsia privilegiata significa intercettare quella violenza ed evitare il femminicidio, quanto più. Viceversa nei commissariati troppe volte accade che la donna alla fine trova il coraggio, va e il personale impreparato fra le forze di polizia, le dice, ma no, torni a casa, ci sono i bambini, non si preoccupi, adesso passa, sarà nervoso, c'è la crisi, il lavoro, eccetera. No, non deve più succedere, perché quelli sono responsabilità fortissime che le istituzioni indirettamente si prendono nel riconsegnare quella donna nelle mani di quello che è il suo maltrattante, come si dice in gergo, addirittura il suo assassino. Significa poi rischiare di perderla per sempre, perché veramente poi questo ritorno potrebbe essere fatale, purtroppo in molti casi stato fatto fatale per molte donne, quindi guai, invece una volta che una donna trova questo coraggio, sostenerla in tutti i modi, quindi appunto anche con una preparazione adeguata. Vorrei, diciamo, integrare quello che diceva lei con una piccola riflessione. Diciamo, noi siamo ovviamente contenti, il senso della campagna, del punto 2 dell'agenda è proprio questo, a livello nazionale dotare di strumenti normativi concreti, quindi con programmi, diciamo, anche noi abbiamo proposto, appunto, soprattutto sul piano preventivo della cultura, nelle scuole, di formazione, di attenzione, diciamo, a tutta una serie di messaggi, soprattutto mediatici, di informazione, eccetera. Però vorrei, mentre, diciamo, mi complimento per l'approvazione di questa legge, effettivamente, la prima, credo, nel Lazio... In realtà ce n'erano due più piccole, una andava a normare i centri antiviolenza e l'altra era più sugli spazi pubblici. Noi le abbiamo assunte e allargate a un quadro. È una legge quadro. Esatto, analoga, noi lo chiediamo a livello nazionale, che sia una legge complessiva che preveda tutti questi aspetti e non solo quelli punitivi. Devo però sottolineare e a chiedere, insomma, che questo stanziamento non indifferente non scompaia come succede sempre quando si tratta di diritti umani e, in particolare, di diritti delle donne, nei momenti di crisi economica. Quindi il piano triennale, diciamo, è finanziato, però per intervenire veramente e cambiare le cose c'è bisogno di una programmazione veramente a lunghissima scadenza. Non bisogna fermarsi? No, non bisogna che già l'anno prossimo magari ci sia una piccola correzione, per carità, non voglio... però l'abbiamo visto più volte. Ma anche le migliori intenzioni poi, all'atto pratico, rischiano poi di perdersi le strada. Aggiungo una cosa. L'esperienza un po' insegna. Sì, ma assolutamente. Bene, è successo anche recentemente. A parte, come dire, essere perfettamente consapevole che la vera battaglia sulla legge è iniziata oggi, cioè dopo la sua approvazione. Ciò detto, noi abbiamo messo un milione di euro nel momento in cui la Regione Lazio ha 22 miliardi di debito, quindi non esattamente in un periodo di casse e possiamo solo migliorare, come dire, mi voglio augurare. E aggiungo una cosa, che sempre per legge, noi che abbiamo una splendida occasione in questo momento, l'unica forse occasione economica di risorse della Regione, che è la programmazione europea 2014-2020, nella legge c'è anche scritto che quei fondi strutturali che sono in particolare fondati sulla inclusività sociale, devono essere messi a disposizione delle politiche di questa legge. Quindi non è sufficiente quel milione, non solo diciamo che deve essere ogni anno rinnovato, ma diciamo anche che non è sufficiente, proprio perché l'intervento è complessivo e non va vissuto per segmenti. Da questo punto di vista mi sento di garantire che quantomeno l'approccio è quello che tu dici e che voi chiedete. Chiaramente c'è da fare rete, anche in questo senso, per difenderle poi, perché mai dare nulla per scontato. Per scontato, no? Mai adagiarsi sugli allori. Insomma, questo è un primo passo, dice Marta Bonafoni, però poi insomma bisogna continuare con coraggio su questa strada. Allora, abbiamo pochi minuti verso le conclusioni. Con Anna Parisi-Presicce volevo capire un po' meglio di questa campagna. So che sarete a Roma. Sì, infatti domani, diciamo, a Roma a Campo dei Fiori dalle 17 in poi, ma anche in altre piazze d'Italia, se diciamo chi ci segue va sul sito di Amnesty può vedere. Si può trovare, no? Esatto. Dove voi siete. C'è una grande mobilitazione, anche molto gioiosa, diciamo in luogo delle mimose. abbiamo ideato un origami a forma di fiore, dove le persone possono anche scrivere un messaggio e lasciarlo, appunto, oltre aderire all'appello e possibilmente aderire all'SMS solidale, diciamo, per sostenere anche economicamente un'organizzazione che, diciamo, si sostiene, si autofinanza sostanzialmente. Come sopra, insomma, no? Perché poi i soldi servono per fare queste cose. Tutti questi origami che raccoglieremo da adesso, domani è il lancio, appunto, di tutta l'Italia. Ai prossimi mesi saranno portati poi il 25 novembre in Parlamento. Diciamo, o nelle istituzioni nazionali, appunto, con questi messaggi, perché è un percorso lungo da fare. Non si conclude domani con l'8 marzo. E quindi domani, diciamo, invito tutti i cittadini romani a raggiungerci a Campo dei Fiori, diciamo, dare questo segno concreto di sostegno. Parti vedere, stateci, insomma, perché c'è bisogno davvero. Ci sarà questo tappeto. Uomini e donne, ecco, uniti in questo sì, in questa importante campagna. Italia. Lo diceva Anna Parisi Presicce, Marta Bonafoni, di strada bisogna, l'avete detto entrambi, bisogna farne ancora tanta. Abbiamo, perché no, insomma, diciamocelo, no? Ottenuto dei risultati da quando le battaglie delle donne sono iniziate. Però abbiamo fatto strada, ma ancora ce ne resta parecchia. Ma io rilevo questo. Il dibattito che c'è stato in aula per l'approvazione di questa legge ha visto comunque presenti 10 consigliere donne su 51 consiglieri totali. Sembra una sciocchezza, ma non lo è, perché di fatto la democrazia è in qualche maniera sottratta anche nelle aule politiche. Lo dico nel momento in cui il dibattito nazionale è legato alla doppia parità di genere. Per cui è evidente che c'è fatica. Io l'ho detto nel mio intervento finale in aula, la prima mossa della legge contro la violenza sulle donne, diciamo dell'approccio culturale a quella legge, si è consumato dentro quell'aula, dove il confronto è stato tutt'altro che pacifico, tutt'altro che scontato e dove però insieme si è fatto un passo avanti. Io di questo sono convinta. Rispetto a quando è iniziato il dibattito in cui ho sentito cose che voi umani, come si dice, si è concluso con un atto di crescita collettiva. Non so quanto questo durerà all'interno delle coscienze dei miei colleghi, però penso che a partire dalle istituzioni il lavoro si è cominciato a fare, prendendo atto che ancora non siamo maturi, non siamo in grado di dare delle risposte immediate. Questa legge secondo me il suo tentativo lo mette in campo. Ad esempio sul coinvolgimento degli uomini dice moltissimo, nel percorso culturale, di approccio e nei progetti nelle carceri con i maltrattanti, che è un altro aspetto che finora le associazioni sui gomiti hanno portato avanti da sole raccattando fondi. No, noi diciamo che quello è fondamentale, andare nei bracci delle carceri a parlare con questi uomini ed evitare che una volta usciti ricominciano è uno dei percorsi necessari. È abbastanza surreale, io continuo a parlare e dico delle cose scontate, però averle tutte insieme in una legge, esattamente, in un ente che comunque ha una legiferare... Tante, va nero su bianco e comunque stabilire fondi, sostegni, eccetera... Paglia un osservatorio a proposito di quello che diceva Anna, l'osservatorio che raccoglierà i dati ma che dovrà anche monitorare, perché poi questa è una politica nuova che ha bisogno di continui confronti con la rispondenza fra quello che tutti prefiggevi e i risultati e quindi di correzioni dirotte. A queste correzioni saranno chiamati gli antilocali, le associazioni, gli sportelli, la polizia, gli avvocati, i magistrati, in una grande presa d'assunzione collettiva di responsabilità, perché è ora di farla finita, perché quello è un tema tuo, no, questo è un tema di tutti e di tutte. I numeri da cui siamo partiti in apertura di questa nostra conversazione ne sono assolutamente la riprova, speriamo che si possano davvero ridurre quanto prima. Mi pare che la domanda che ci siamo fatte all'inizio su quale senso dare a questa celebrazione dell'8 marzo, insomma mi pare che ci avete dato una bella risposta, quindi continuate così, grazie e buon lavoro. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie a voi per esserci venuti a trovare, ci fermiamo adesso, una breve pausa, restate con noi perché continuiamo a parlare comunque della festa delle donne, lo faremo, avete visto inquadrate queste bellissime piante di gardenie, perché l'Aism si sta muovendo per una raccolta per tutelare le donne che sono le maggiormente colpite dalla sclerosi multipla, ne parliamo tra poco, una bellissima campagna, tra l'altro le gardenie sono meravigliose, vi raccontiamo tutto tra poco, restate con noi.